Ma le patologie sono le stesse più o meno nell'uomo e nella donna? No, assolutamente! La donna ha delle patologie a cui è particolarmente predisposta per ragioni anatomiche, strutturali, ormonali. Facciamo un esempio banale. La colite, la pancia gonfia, è molto più specifica della donna che ha una sua emotività, una sua tendenza ad assomatizzare molto maggiore rispetto all'uomo. La donna ha una maggiore predisposizione all'osteoporosi. Perché? Perché parte geneticamente con un osso più sottile. Quindi quando poi pian pianino all'età si perde osso arriva più facilmente all'osteoporosi. La donna ha un cuore più piccolo dell'uomo quindi ha meno bisogno di ossigeno rispetto all'uomo e quindi ha meno patologie di tipo cardiologico in generale. Ma la donna ha anche tendenza, sempre per il suo fattore emotivo maggiore, maggiore, ha l'ipertensione arteriosa e quindi la donna cinquantenne più facilmente ha l'ipertensione arteriosa rispetto all'uomo cinquantenne anche se poi nel tempo lo svilupperà anche lui. La donna ha maggiore tendenza alle malattie autoimmuni e questo è molto importante e quindi dovremmo stare sempre attentissimi a somministrare la vitamina D così importante, così carente è così essenziale per prevenire le malattie autoimmuni che sono soprattutto nella donna. La donna è particolarmente predisposta alle patologie urinarie. La cistite è tipica del sesso femminile e quindi la pulizia vescicale è molto importante nella donna per esempio con il dimannosio. In questo libro molto importante, questo piccolo libro in cui si parla di come si approccia il paziente, qui si parla delle differenze tra di età, di sesso e di costituzione quali sono le analisi di laboratorio importanti per questo paziente di questo sesso e di quest'età? Le troviamo in questo libro, questo libro molto molto importante che ci aiuta a capire le differenze della patologia e della fisiologia a seconda dell'età, del sesso e della costituzione. Grazie a tutti.